Musica Io voglio diverti così, guardati Cenzo Michelino E Luca Bonacore Con noi Lilia Ma io ti volevo fare questa domanda Perché tu hai dei grandi, grandi progetti Un grandissimo comico Dado Tedeschi La fase delle cose importanti durante il sesso Per cui chiudo con due consigli Primo consiglio, fate sempre il sesso Nella stanza più piccola della casa Perché così sembra più grosso Stiamo qui con una bellissima ragazza Che si chiama Eradis E niente, vi aspetto Dall'8 giugno al 15 agosto Al Festival Latinoamericano Eric Kler No, no, c'è ancora tante belle cose da fare C'è il nostro Massimo Buscemi Ma soprattutto abbiamo la nostra Mari Caffruccio Quindi mi auguro veramente che la televisione si arricchisca Di tante persone utili Ho parlato benissimo Hai spiegato il tecnico e l'utilità di questi articoli Grazie 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 Fantastica Nella prossima puntata Ciao Grazie 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 Grazie